Ehi, che cosa fai? Dai, vieni qua. Non puoi più aspettare. Ehi, dai, resta qui. Aiutami. Bisogna preparare. Ehi, guarda chi c'è, chi è accanto a te. Non perderlo di vista mai. Lui crede in te, ti insegnerà la cosa più importante. Ogni spetta della vita ha un gusto speciale. Condividila con l'altro e saprai che vale. Apri le tue patte che là fuori c'è il mondo che ormai è quasi pronto. Tutti a tavola. Il miglior cibo che dà la giusta pinta per vivere. Tutti a tavola. Sei tu un signore e chi mi hai posto accanto per crescere. Tutti a tavola. Parlami ancora perché vivo ogni istante. Parlami ancora dell'amore più grande, io so. Che di non solo pane vivrò. Sai quanta energia per affrontare la strada che hai davanti. Ma coraggio avrai, imparerai, da lui a donare tutto. Di ogni tua parola e di ogni singolo sguardo. Mi ha già fame e voglio farne il pieno ogni giorno. Il sale e della terra siamo e diamo un sapore, migliore sapore perciò. Tutti a tavola. Il miglior cibo che dà la giusta pinta per vivere. Tutti a tavola. Sei tu un signore e chi mi hai posto accanto per crescere. Tutti a tavola. Parlami ancora perché vivo ogni istante. Parlami ancora dell'amore più grande, io so. Vieni non solo pane vivrò. Vivrò non solo di pane, ma di ogni parola d'amore. Ogni gesto fraterno di gioia darà la tua vita un nuovo sapore. Gusta la vita, accetta la sfida, spenditi in ogni suo istante. Questo è il messaggio di Dio. Il più importante. Salta in alto con le braccia in cielo, con lo sguardo sempre verso il suo Vangelo. Sarà la tua voce, potente strumento che ridona il mondo colore. Per questo crediamo chiunque ne metto più bello a nutrirsi d'amore. Tutti a tavola. Il miglior cibo che dà la giusta pinta per vivere. Sei tu un signore che mi hai posto accanto per crescere. Tutti a tavola. Parlami ancora del tuo vita un istante. Parlami ancora dell'amore più stante. Lo griderò con gli occhi e il cuore e la mente. Perciò tutti a tavola. Parlami ancora dell'amore più stante. Parlami ancora dell'amore. Grazie a tutti.